via via dai veloce veloce bravo gabri capolabì buono bravo e lento nico vai 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 per lo stesso ok rimettete a posto tutto via dai dai andiamo 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 no 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 fermi gabri gabri non voglio vedere più una roba del genere via andiamo andiamo accelerare 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 buono sì ma il pallone deve essere la è di fianco a al cinesino è via dai veloci andiamo 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 dai attacchiamo la palla scivolato bene vedi vedi samu quello è proprio quello che non voglio vedere ci sei arrivato guardami qua così stendi dovete fare un attacco palla quindi con le braccia bendiste via dai andiamo ragazzi spingere 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 va bene giù lunghi buono bravi questa è quella che avete fatto meglio tutti e tre bravissimi bravissimi via dai spingere andiamo 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 dai forza forza andiamo giù lunghi buono bravi 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 no mi sa che dopo tanto le riguardo ma mi sa che ancora gabri è arrivato prima non lo so samu dopo guarda ma non è importante via dai spingere forte andiamo andiamo dai dentro e via gabri però buono non devi lanciarlo ce lo devi appoggiare dentro il cerchio è mettiti a posto gabri a posto pronto a spingere con un piedino avanti o dietro via dai spingere forte andiamo 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 gabri smettila guarda dove è andato il pallone hai visto a fare il furbo via andiamo veloci andiamo veloci dai forza forza andiamo dai che va bene andiamo 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 buono e samu vedi che quando sei in ritardo via dai andiamo veloci andiamo dai dai forza spingere 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 dai Nico se il pallone va a spasso dai ancora un paio di giri via dai veloci spingere forte spingere forte andiamo andiamo guarda dove è la palla perché non stai attento gabri dai l'ultimo giro dai via dai veloci andiamo andiamo spingere spingere andiamo veloci bravo ah peccato poi prendi lo prendi lo prendi lo finisci gabri gabri finisci lo stesso veloce guarda samu niente avete fatto bene secondo voi un altro giro via fatto bene spingere andiamo spingere forte andiamo dai forza forza belli distesi buono bravi 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 bravi